Allora, l'idea di produrre questo libro nasce da un evolversi di un'idea che ho avuto tanti anni fa perché avevo la volontà o comunque la passione di poter scrivere quello che noi trasmettiamo tutti i giorni le nostre spose, quindi piccoli consigli, aneddoti, come organizzare il matrimonio e soprattutto come fare le scelte migliori ma senza farsi prendere dall'ansia. Quest'estate sono riuscita a dedicarmi un pochino di tempo per farlo e ho messo in produzione il libro e l'ho stoppata. L'essere seguita da dei professionisti nel settore abiti da sposo e da sposo direi che è di vitale importanza, questo perché soprattutto le donne sognano il momento del matrimonio come il momento più bello della loro vita ed in effetti lo è. Ci sono molte aspettative ed è bellissimo che l'abito venga studiato, consigliato e seguito da dei professionisti prima di incorrere poi in qualche inconveniente e trovarsi non con l'abito propriamente dei sogni come si era immaginato. Sì, infatti ci sono delle facilitazioni per i clienti svizzeri perché possono pagare esentiva italiana e poi in frontiera pagare l'iva svizzera. Essendo l'iva italiana al 22% c'è un bel risparmio. Allora, perché scegliere Tosetti Sposa? L'hai detto tu nella domanda che mi hai fatto perché è 95 anni che creiamo e vendiamo abiti da sposo e da sposo. Abbiamo quattro generazioni di storia in cui facciamo una selezione dei brand migliori, dei capi migliori, dei brand più glamour, spose, spose, cerimonia e creiamo una nostra collezione dedicata proprio in esclusiva da poter realizzare, personalizzate proprio in esclusiva per la sposa e lo sposo stesso che ci contraddistingue ormai da anni. Allora, le iniziative per i 95 anni sono state quelle di una sfilata in cui a sfilare non sono stati degli abiti della collezione successiva ma bensì le nostre spose, alcune delle nostre spose 2022 con il loro abito del giorno più bello. Abbiamo poi prodotto un orologio in edizione limitata a Tosetti e vabbè ho fatto uscire il primo libro e pensavamo ogni anno da qui al centenario di fare delle promozioni o comunque dei capi particolari. Allora, il libro lo potete trovare tranquillamente in libreria, se non si trova in libreria si può trovare anche online alla Feltrinelli, alla Ibis, su Amazon, quindi in tantissimi canali. I contenuti più importanti è proprio di arrivare il giorno del matrimonio con un po' meno ansia perché comunque ci sono tanti aneddoti ma soprattutto tanti tanti consigli per arrivare un pochino più rilassati, trucchi del mestiere insomma. Grazie. Grazie.